Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi parliamo di calcio a mercato e parliamo della situazione legata al capitano rosso nero, ovvero Alessio Romagnoli. Infatti è una notizia fresca che abbiamo recuperato da nostri colleghi autorevoli e secondo la quale il giocatore del Milan, Alessio Romagnoli, avrebbe ottenuto una manifestazione di interesse da parte del Barcellona. Infatti il Barcellona che sta cercando in qualche modo di ringiovanire, di rilanciare il progetto per le prossime stagioni sportive, per iniziare ad aprire un ciclo, sta guardando in Italia alla difesa, sta guardando con grande interesse ad Alessio Romagnoli. Anche perché vorrebbe, secondo fonti, liberarsi di Samuel Umtiti che è il giocatore che percepisce al Barcellona un ingaggio davvero importante ma che ha deluso le aspettative. E il Milan sta valutando, sta cercando di capire cosa fare con Alessio Romagnoli, visto e considerato l'ottimo rendimento del giocatore inglese Tomori che verrà sicuramente riscattato da parte del Milan. E quindi probabilmente il giocatore Romagnoli adesso ha anche recuperato, ha perso la titolarità dopo le importanti prestazioni del difensore inglese. E quindi il Barcellona, e nella specifico la persona di Ronald Koeman, l'allenatore del Barcellona, starebbe valutando il profilo di Alessio Romagnoli come rinforzo per la prossima stagione. Vanno tenuti in considerazione anche degli aspetti molto importanti, ovvero che il Milan ha offerto il rinnovo ad Alessio Romagnoli e che il procuratore Mino Raiola chiede un aumento importante di ingaggi. Infatti il calciatore attualmente percepisce 3 milioni e mezzo a stagione e Raiola chiede 5 milioni netti a stagione per il difensore. Cifra non impossibile per il Barcellona e quindi questo potrebbe aiutare la cessione, potrebbe convincere il giocatore laziale, diciamo il giocatore cresciuto nella Roma, una tifosa laziale, a lasciare il Milan e ad andare al Barcellona. E poi c'è anche da sottolineare come la Juve abbia chiesto, il giocatore abbia chiesto Romagnoli al Milan offrendo come contropartita tecnica Bernardeschi, perché anche Bernardeschi ha il contratto di scadenza il 30 giugno 2022, le valutazioni sono abbastanza vicine, ma il Milan non considera Bernardeschi una priorità, una priorità perché sulla tre quarti Milan interverrà ma ha altri obiettivi e Bernardeschi non rientra nelle priorità di calcio mercato per la dirigenza rosso-nera. Il fattore che potrebbe determinare però questo ipotetico scambio o un ipotetico scambio con Romagnoli è una plusvalenza, perché il Milan potrebbe ottenere una importante plusvalenza a bilancio per Alessio Romagnoli, che è stato pagato 25 milioni di euro ma ha visto ammortizzare il suo cartellino nel corso degli anni. Quindi potrebbe essere una buona opportunità di calcio mercato in Milan scambiarlo, ma mi auguro per un giocatore di livello e soprattutto più impattante di maggiore personalità rispetto a Bernardeschi. Quindi vedremo, da un lato potrebbe esserci la sirena spagnola, quindi il Barcellona, o un ipotetico scambio magari con la Juventus, ma il Milan in questo momento non accetta contropartita tecnica del calibro di Chico Bernardeschi. E voi cosa fareste col capitano rosso-nero? Lo cedereste o cerchereste di puntarci ancora di più nella prossima stagione sportiva? Fatecelo sapere nei commenti al video, come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.